La maxi-inchiesta che ipotizza una sofisticata rete affaristica attorno a Girgentiacque con complicità a tutti i livelli professionali e istituzionali sbarca in Puglia con due giornate di perquisizione e interrogatori a Bari. La sede della Deloat Etouche S.p.A., una delle importanti e maggiori società di revisione contabile in Italia, tra le più importanti al mondo, è stata perquisita a fondo dai militari della Guardia di Finanza, del Nucro di Polizia Penitenziaria e dai Carabinieri del Nucro Investigativo di Agrigento, suderega della Procura della Repubblica, diretta da Luigi Patronaggio. Sono stati sequestrati centinaia di documenti utili per ricostruire le vicende soggettare di Girgentiacque, che per volontà del Presidente Marco Campione, dal 2013, ha i propri bilanci certificati proprio dalla Deloat. Tra i documenti sequestrati è anche alcune fatture che hanno attirato l'attenzione dei militari operanti e dello stesso pubblico ministero Salvatore Vella, che ha coordinato le attività in Puglia. Si tratta in particolare di decine di fatture per oltre 2 milioni di euro custodite nei locali della Deloat, che gli inquirenti ritengono false e che avrebbero reso inattendibile il bilancio di Girgentiacque del 2014, alterandone in maniera determinante, sottolineano alcune fonti investigative, le poste principali. Gli inquirenti avrebbero trovato decine di doppie fatture, aventi lo stesso numero e data di emissione, ma con oggetto e descrizioni diverse. Ne sono scatoliti diversi interrogatori, condotti dal pubblico ministero Vella, con l'ausilio dei consulenti tecnici contabili, che si sono conclusi con l'iscrizione nel registro degli indagati di un importante socio della Deloat e Tuge, e di un manager della stessa società che lavorano nella sede di Bari. La Procura vuole verificare in particolare se si è trattato di un comportamento isolato da parte dei due dirigenti, o se ci sono connivenze più profonde tra le due società, nel frattempo gli indagati diventano 74. Si attendono adesso gli esiti della certificazione del bilancio 2017 di Girgentiacque, che la Deloat e Tuge ha ancora in corso di verifica.